oggi andiamo a vedere un programma che serve a generare file vettoriali tramite l'intelligenza artificiale siete pronti? ciao a tutti benvenuti nel canale oggi parliamo ancora di intelligenza artificiale ma non per la creazione di immagini per la creazione di file vettoriali in molti avete chiesto nei gruppi come si generano di file vettoriali se esistono dei programmi specifici bene io ne ho selezionato uno tra i tanti che secondo me è il migliore del momento è ancora in fase di miglioramento però ha già delle ottime soluzioni da darci quindi ora vi spiego passo per passo come generare queste immagini vettoriali vi spiego tutte le sue funzioni all'interno e oltre a quello c'è anche la possibilità di creare immagini ci sono diversi algoritmi all'interno quindi non perdiamo tempo andiamo a vederlo il video è un po lunghetto perché voglio spiegarvi tutti i vari passaggi e le funzioni principali ovviamente è nuovo anche per me vi ho spiegato le varie funzioni sono un attimo da provarle perché gli algoritmi ce ne sono una marea ce ne sono alcuni che rispondono abbastanza bene alle nostre richieste però ovviamente è ancora in fase di aggiornamento questo programma però veramente ne ho provato in amarea e questo devo dire che è quello migliore ed è ben fatto prima di tutto voglio ringraziare i nuovi abbonati al canale scusate se sono ripetitivo ma stanno aumentando di video in video li vedete qui sotto nella descrizione ed è giusto che siano ringraziati perché stanno supportando il canale attivamente quindi grazie di cuore e se voi volete abbonarvi trovate link qui sotto nella descrizione e mi raccomando ricordatevi di iscrivervi al canale di cliccare sulla campanellina se volete ricevere le notifiche dei miei nuovi video che escono al mercoledì e alla domenica e di mettere un like ovviamente se vi piace questo video quindi non perdiamo tempo e andiamo a vederlo ed ecco qua ricraft.ai è un programma veramente interessante avete la possibilità di generare dei file vettoriali tramite il testo ma non fa solo quello come vedete qui all'interno ci sono già diverse immagini create che potete prendere spunto per registrarsi è molto semplice ovviamente io ho già creato l'account ma l'account è molto semplice qui vi chiede di creare un account andate qui sotto fate sign up se avete la pagina già preimpostata con login se no vi chiede già direttamente di creare un account quindi fate sign up e creare l'account o con google o con discord oppure ne create uno voi inserendo la vostra mail io l'ho già creato i passaggi sono molto semplici non sto qui a spiegarveli quindi entro col mio account una volta che siete all'interno della pagina qui troverete tutti i progetti che voi avete creato in precedenza io ho fatto alcuni test quindi partiamo da zero quindi per creare un progetto ovviamente dovete fare create new project quindi lui va a caricare la pagina e questo è come si presenta ricraft potete scegliere se fare una raster image una vector image vi mostro subito la vector image perché all'interno ci sono diverse funzioni interessanti quindi come vedete si forma già un foglio che potete selezionare la cosa interessante potete selezionare anche l'aspetto del foglio quindi potete modificare il suo aspetto come vedete in 4 terzi 5 quarti anche i 16 noni come volete lasciamolo 11 oppure potete anche modificarlo così vedete l'aspetto rimane sempre uno di uno però potete ingrandirlo o rimpicciolirlo come vedete qua c'è scritta sia l'altezza che la larghezza da qui quindi potete già fare un po quello che volete una volta che avete scelto la dimensione e tutto quanto qui ci sono i vari algoritmi quindi sono suddivisi in vector art potete selezionare un algoritmo tipo vector art un algoritmo di questo genere che tipo mandala questo che è più indicato per il taglio laser comunque questi qua sono tutti esempi vedete gli algoritmi cosa creano ci sono vari tipi di algoritmi questo è indicato per l'incisione comunque dal disegno si capisce facilmente cos'è oppure ci sono le icone cioè praticamente se voi volete ad esempio un vaso una pianta con vaso vi crea un'icona del genere in questi vari formati ora non sto qui a spiegarvi tutti i vari nomi perché ci sono i disegni opportuni per capire come vengono fuori ma è molto semplice soprattutto ci sono alcuni indicati tipo offset fill quindi farà un riempimento dell'offset sono molto interessanti una volta che avete scelto il vostro algoritmo chiamiamolo così io magari parto da line art qui andate a scrivere cosa volete creare mi raccomando scrivetelo in inglese in caso usate google traduttore quindi andiamo a creare la faccia in primo piano io l'ho già tradotta vi faccio vedere crea la faccia in primo piano di un leone da poter tagliare con il laser io ho creato questa l'ho tradotta con google e quindi adesso diciamo l'intelligenza artificiale di creare tutto una cosa importante i dettagli più ne mettete più è lavorata l'immagine io vi consiglio di partire da una via di mezzo non partire al massimo all'estremo come c'è scritto qua perché vengono fuori troppi dettagli secondo me per un taglio laser quindi magari partite per una via di mezzo poi fate le prove che volete quindi adesso facciamo ricraft che lui va a generarmi l'immagine è molto veloce anche nella generazione delle immagini non ci vuole tanto tempo come vedete adesso viene fuori l'immagine eccola qua mi ha creato l'immagine mi ha dato due soluzioni o questa o questa potete scegliere quello che volete facciamo caso che ci interessa la prima però vogliamo altre immagini simili quindi selezioniamo la prima da qui sotto come vedete andiamo a modifico rent image la modifichiamo selezioniamo se la vogliamo 50 per cento simile o di più magari gli mettiamo un 100 per cento lasciamo sempre l'aspetto al medio e andiamo a modificare l'immagine lui adesso mi andrà a creare altre immagini simili a questa lasciandomi anche l'originale presente quindi se non mi piacciono questi posso ritornare al mio originale ed ecco le altre immagini che ha realizzato come vedete sono molto simili ma modificate eccole qua è molto valido questo programma secondo me una volta che avete selezionato l'immagine che vi interessa prendiamo questa andate qui sopra export e selezionate come volete esportarla ovviamente a noi ci interessa esportarla svg quindi scarichiamo l'immagine in svg e andiamo ad importare l'immagine quindi importiamo l'immagine che è questa qui che è l'ultima perché ne ho create delle altre come vedete vi ha creato il vostro file vettoriale qua possiamo togliere il quadrato che non ci interessa magari mettiamo in linea questo lo mettiamo tutto nero perché se no non ci capisce niente ok togliamo questo di esterno ed ecco la vostra immagine vettoriale realizzata quindi qua posso decidere cosa fare ovviamente lui mi taglia tutta la parte esterna magari questi qua non glieli facciamo tagliare però è a scelta vostra potete anche dirgli che la parte interna questa qui non ve la tagli ve la incidi valutate voi io sinceramente la preferirei tagliata e magari all'interno la coloro oppure gli do un effetto 3d vedete un po voi vedete un po voi valutate ci giocate un po con light barn in base alla vostra immagine oppure la tenete così oppure gli date la selezionate selezionate questa gli date il riempimento ci possono essere vari metodi dipende da voi insomma fate un po come credete meglio ora io ovviamente sto facendo cose a caso su light barn non sto qui a spiegarmi come vettorizzare un'immagine sto facendo degli esempi così banali importante farvi vedere un attimo come generare l'immagine bene torniamo di là e andiamo a vedere altre cose quindi questa è l'immagine vettorizzata ora possiamo andare a vedere altri risvolti di questo programma ma possiamo creare anche altre cose senza star lì a cancellare il progetto possiamo creare qua in parte quindi basta cliccare sullo sfondo selezionare vector image vi si forma un altro piano di lavoro selezioniamo ancora line art e proviamo a creare un mandala con la tecnologia line art qui mettiamo secondo me medium non esageriamo troppo se no viene troppo complesso in mandala e facciamo ricraft quindi attendiamo un attimo per lui vada a crearmi il mandala ecco il mandala realizzato ovviamente ci sono due opzioni come vedete c'è questa o questa se vi piace questa potete rielaborare questa come vi ho spiegato prima modifico rent image se la volete similare o al 50% sono similare e la modificate ora non sto qui a fare gli stessi passaggi ma si può rimodificare quindi una volta selezionata l'immagine fate export svg create mandala 1 quindi andiamo su light barn andiamo ad importare il mandala eccolo qui e abbiamo il nostro bel mandala realizzato come vedete eccolo qui ovviamente potete scegliere quello che volete potete anche selezionare tutta una serie di tratti e cambiare di colore per realizzare più strati come vedete magari adesso ne prendo due a caso giusto per farvi vedere vi facciamo in linea ok e lui sta realizzando il mandala tagliato all'interno così man mano potete inserire i vari tratti giusto per capirci questo esempio potrebbe essere uno strato il fiore all'interno potrebbe essere un altro strato dopo tutta sta parte qua potrebbe essere un altro stato e via così ovviamente dovete lavorare con lei però avete già un bel mandala realizzato che non è male secondo il mio punto di vista oltre a questo il craft ti dà anche altre possibilità come vedete ora non sto qui a fare tutto facciamo questa prova dell'ingraving giusto per farvi vedere lasciamo il mandala e questa è molto carina serve per realizzare delle immagini da incisione come vedete ha realizzato un mandala per incidere ovviamente non è da vettorizzare perché è un macello se dovete vettorizzarlo però verrebbe fuori una bella incisione da realizzare su una piastrella è molto carina anche questa come idea insomma qui ci sono diverse tipologie potete sbizzarrirvi e come volete potete creare anche delle icone come avete visto ci sono diverse cose fate delle prove e trovate la soluzione migliore qui ovviamente ci sono i loghi e dopo qui potete inserire i vostri brand sia del vector style e che delle icone e questa è la parte vettoriale però non fa solo quello come vedete c'è anche la parte raster image quindi selezioniamo raster image abbiamo il nostro ben nuovo quadrato ci spostiamo magari qui sotto ok e andiamo nella tipologia raster che lui va già in automatico perché l'avete selezionato e come vedete ci sono diversi algoritmi anche qui molto belli simpatici da poter realizzare le nostre figure da poter incidere sulla piastrella sulla tela e così via molto bello anche il pensi sketch è molto fatta bene sono le illustrazioni come vedete quelle foto real di fotorealismo quindi potete creare delle immagini fotorealismo e la solita combinazione se voi volete creare un brand vostro lo create quindi andiamo su illustration facciamo che ne so facciamo un pensi sketch si proviamo fare quello e creiamo delle rose lasciamo il massimo qua e facciamo ricraft ovviamente dovete fare delle prove con l'intelligenza artificiale io sento extreme può darsi che non vada bene se no passo a medium oppure modifico l'immagine dipende da cosa fuoriesce beh direi che è bellissima sinceramente una bella immagine da incidere io la lascerei proprio così come vedete è l'immagine pensi sketch perché se noi la facciamo proviamo a farla psicadelica giusto per vedere le differenze da un estremo all'altro beh sinceramente non è tanto psicadelica però è molto carina è un po' diversa da prima magari proviamo fare create e robot proviamo a creare un robot psicadelico vediamo diciamo una cosa che ho notato mi è successa due volte credo che sia da non fare se magari avete già creato una rosa tipo quelle di prima non cambiate l'algoritmo piuttosto create un nuovo rester ecco questi sono alcuni esempi ora non sto qui a farvi vedere le varie tipologie vi consiglio provatele e trovate quella che vi piace di più ovviamente ci sono anche delle immagini già realizzate che sono sulla vostra destra come vedete scorrendo le potete andare cliccate qui all image oppure potete selezionare solo quelle vettoriali illustrazioni e fotorealismi facciamo fotorealismo e le potete guardare quindi andiamo a prendere quella del gatto che mi piace ok e c'è quello che ha scritto l'autore che ha creato questo gatto così è un aiuto ulteriore per anche voi realizzare le immagini comunque c'è scritto quello che lui voleva mettere all'interno di questa immagine quindi un gatto su uno spondo rosso che sta sorridendo in poche parole quindi voi potete già prendere questo riferimento potete modificare l'immagine se la volete lasciatela similare al 50% e andate a modificare l'immagine e l'immagine diciamo è stata leggermente modificata come vedete è un po' modificata ma si possono fare ulteriori cose quindi se io voglio qua trovo delle opzioni la prima è interessante qui ovviamente c'è anche un video che vi spiega cosa fa però ve la faccio vedere io quindi seleziono questa seleziono dove voglio modificare mettiamo qua seleziono questa e aggiungiamo non so voglio aggiungerci un cappello vediamo se viene fuori se l'intelligenza artificiale ci esce smalicat vediamo se mi aggiunge il cappello ecco diciamo che non è proprio un cappello ma si è avvicinato diciamo va bene è una cosa un po' simile al cappello magari a volte viene fuori non è ancora perfetto però è simpatica la cosa secondo me è molto simpatica se noi andiamo a vedere io vado a vedere negli esempi che io avevo realizzato tipo questo avevo preso un'immagine come questa e gli avevo detto di inserire un cappello come vedete qui non è venuta bene però qui me l'ha inserita perfettamente dipende dai casi comunque è in fase di evoluzione quindi non vi preoccupate era questo quello che io stavo lavorando si esatto questo è un altro esempio ovviamente come vi dicevo qui ci sono una miriade di cose che potete fare ma anche tra queste ci sono diverse opzioni qua ad esempio potete dire di togliere un'area quindi andiamo a selezionare togliamo l'orecchio per esempio ok e la cancelliamo lui adesso la genera e la va a cancellare la cancellate in parte possiamo ancora andare sopra selezionare un'altra volta e dirgli di cancellarla ok diciamo che passando più volte si riesce a cancellare si lascia lo sfondo rosso sotto ma si può fare un'ulteriore cosa potete rimuovere il background esattamente quindi selezioniamo questo lui adesso andrà a rimuovermi il background ed ecco qua con il background rimosso dopo ci sono altre cose interessanti possiamo anche modificare il background quindi come vedete qui c'è l'esempio della macchina lui cosa gli scrive il background quindi andiamo a scrivere che ne so city mettiamo una città di un background quindi andiamo a selezionare change background lui adesso andrà a lavorarlo e come vedete ha messo una città di sottofondo di background è molto simpatico come programma veramente ci si può sbizzarire fare diverse cose ovviamente qui ci sono altre possibilità si può vettorizzare l'immagine un po come si fa con light barn non ve la faccio vedere fare un upscale dell'immagine quindi potete incrementare la risoluzione se avete un'immagine a bassa risoluzione perché ovviamente qui si possono anche importare l'immagine se volete elaborare fare un upscale e altre cose quindi vi faccio un esempio qui c'è la funzione per importare l'immagine quindi andate qui prendete un'immagine prendiamo questa una a caso andate a importare e potete fare un upscale dell'immagine quindi ora lui vi sta aumentando la risoluzione dell'immagine ecco l'immagine aumentata di risoluzione come vedete è migliorata notevolmente e infine potete anche migliorare la qualità se ci sono degli effetti di anti aliasing come vedete la migliorata qui è un esempio se noi andiamo a modificare l'immagine lui mi dice di pagare un abbonamento di 20 dollari al mese però magari questa funzione la lasciamo un attimo da parte diciamo che questo programma è quasi del tutto gratuito ci sono alcune funzioni tipo questa che bisogna pagare un abbonamento ovviamente ora vi faccio vedere altre funzioni allora questa qui è quella iniziale questa qui vi spiega come fare un'immagine vettoriale ok quindi andate direttamente in vector questa andate direttamente in raster diciamo sono dei pulsanti veloci per andare direttamente la cosa interessante è questa potete creare un set di immagini quindi andate a selezionare uno nuovo e quindi qui scrivete le varie immagini che volete magari selezionate flat 2.0 scrivete non so man man at work man sleeping man study sto studiando e andate avanti fino a inserire sei immagini questo potrebbe essere interessante se dovete creare una serie di cartelli ora sto pensando delle segnalazioni quindi potrebbe essere una cosa interessante se voi andate a fare un recraft lui va a crearvi va a generarvi tutte le sei immagini andiamo un po più in piccolo questo non lo voglio spostare voglio selezionare tutto ok ci spostiamo un po in basso così faccio un po di zoom ok bene intanto lui va a creare le immagini come vedete io ne ho create quattro non potete crearne fino a sei ovviamente potete anche creare moltipli di sei però lui cerca di creare delle immagini ben o male simili come vedete le accrette tutte se non vi piace non so questa la selezionate la modificate magari scrivete al sole boh non so mi sto inventando fate un recraft e lui va a rigenerarvi solo questa immagine è una cosa interessante per creare secondo me dei cartelli oppure una serie di immagini con dei nomi non lo so mi sto inventando adesso però sono delle funzioni che sono interessanti e come vedete lui ha creato l'immagine più o meno sotto il sole sembra più un pianeta con sole va beh però l'idea c'è diciamo questa è un'altra funzione poi c'è la funzione di frame quindi possiamo all'interno di un'immagine inserire altre immagini quindi noi andiamo ad esempio andiamo selezioniamo questa creiamo la nostra bella tavola di lavoro prendiamo che ne so questa immagine la mettiamo qua dentro prendiamo questa la mettiamo così mi sto inventando cose però possiamo fare quello che vogliamo possiamo rimpicciolire questa e metterla anche qui sta dentro quindi creare una serie immagini se vi interessa potete creare una serie di immagini vettoriali e mettere tutti insieme è una cosa interessante possiamo inserire anche un testo quindi andiamo a fare uno zoom quindi qua scriviamo stefano ovviamente potete inserir fare quello che volete come vedete vi si apre il testo qua e potete modificare anche il carattere quindi facciamo così lo mettiamo facciamo 70 sennò non si vede anzi facciamo 200 no esagerato ok facciamo 510 mi interessa solo farvi vedere quando dicevo potete cambiare il carattere vedete qua potete scegliere se metterla in centro al lato o in fianco all'interno dell'immagine il colore ovviamente potete schiarirlo potete fare quello che volete anche questa è una cosa interessante cose che si possono già fare su light bar ma se sono all'interno qui con una sola operazione facciamo già tutto questa ma non è altro per muovere tutto il pannello diciamo vedete se si usa la mano ma io non la utilizzo utilizzo il contro fare lo zoom e sempre con la rotellina del mouse mi sposto quindi diciamo è un'altra funzione qua come vi avevo fatto vedere serve per importare l'immagine che vi ho fatto vedere prima che è questa qui eccola qui ed eventualmente modificarla se può essere utile diciamo che la cosa interessante è anche capire come hanno realizzato gli altri l'immagine ce ne sono alcune sono veramente molto belle e sono tutte gratuite è la cosa interessante quindi questo programma è in fase di evoluzione è un buon inizio secondo me io lo utilizzerei solo per la parte vettoriale perché è interessante soprattutto per la creazione di mandala infatti ne sto realizzando uno e niente lasciatemi magari qui sotto nei commenti se vi è stato utile questo programma qui io l'ho trovato quello più interessante ce ne sono altri però non vi li voglio far vedere perché secondo me questo ha quella marcia in più che serve a noi che utilizziamo light barn bene come avete visto il programma è molto interessante c'è da lavorarci un po sopra io lo sto utilizzando da poco quindi devo ancora capire alcune metodologie soprattutto anche nella descrizione da utilizzare però con le immagini già create con le descrizioni mi sta aiutando molto questo quindi il mio consiglio è guardatevi anche le altre immagini guardate che descrizioni inseriscono e prendetele come punto di riferimento al momento è quasi del tutto gratuito come avete visto ci sono io ne ho trovata una non so se ne sono altre ma una funzione deve fare un abbonamento un abbonamento del costo di 20 dollari però per il momento possiamo anche fare a meno di utilizzare quella funzione ce ne sono un'altra marea da poter utilizzare quindi cerchiamo di utilizzarlo il più possibile dato che al momento gratuito perché non credo che sarà sempre gratuito quindi sfruttiamolo al meglio l'idea di base di quel programma è ottima la vettorizzazione viene fuori molto bene le descrizioni sono abbastanza accurate non andate a utilizzare secondo me l'estremo dell'intelligenza artificiale perché ho fatto alcune prove secondo me a volte diventa troppo complessa l'immagine essendo vettorizzata tenetevi sulla via di mezzo comunque fate delle prove e ve ne rendete conto anche voi di qual è la migliore e mi raccomando lasciatemi qui sotto sempre nei commenti se vi interessano questi video bene non mi resta altro che salutarvi e noi ci vediamo con il prossimo video ciao